se c'era una cosa che volevo davvero fare era battere radan a modo mio e beh ragazzi ci siamo riusciti finalmente direi anche perché ho provato diverse combinazioni per cercare di trovare la soluzione affinché potessi batterlo senza utilizzare build rotte build che bisogna bisciottarlo trisciottarlo quadrisciottarlo no io come vi dicevo nell'altro video io volevo combatterlo quindi dover schivare dover spostarmi dovrei fare molto male quindi attaccare più volte e per farlo sì sono rimasto sulla mia build ma ho fatto delle modifiche quindi questo video vi farà capire come ho fatto a battere appunto radan che build ho utilizzato che modifiche ho fatto affinché potesse performare al meglio la mia build allora come ben sapete io sto utilizzando le lame del dlc quindi sto utilizzando le lame rovesciate ovviamente sanguinarie perché ci conviene tantissimo per via del sanguinamento e ho utilizzato anche una cenere di guerra che è quella che mi permette poi di andare dietro di lui che si chiama passo veloce questa mi ha aiutato tantissimo in alcune occasioni dove non potevo schivare sempre al 100 per cento ho utilizzato lucicatana occulta ovviamente più 25 non perché mi servisse ma perché dovevo utilizzare seppuku questo mi permetteva di avere del sanguinamento quindi di auto infliggermi sanguinamento per poter fare poi più danno nel caso della maschera appunto bianca che ci dà varre questa maschera ci permette di ottenere vi faccio vedere eccolo qua di aumentare la vostra potenza di attacco quando si verifica del sanguinamento nelle vicinanze quindi è chiaro che per la nostra build era assolutamente doveroso utilizzarla poi ho utilizzato vabbè tutta la corazza della sentinella dell'albero perché ragazzi ci dà banalmente una resistenza maggiore al sacro dato che radan fa molto danno sul sacro ho preferito mettere questo tipo di armatura e in combinazione ho anche aggiunto il talismano del drago sacro più 2 questo è quello che mi trovavo ovviamente ho utilizzato anche il sigillo della comunione draconica più 9 ancora dovevo portare a più 10 perché ragazzi perché ho sfruttato fiamma dammi la forza e anzi fiamma donami la forza giusto per aumentare più possibilmente la nostra potenza d'attacco oltretutto abbiamo il balsamo che secondo me è doveroso parlarne perché perché il balsamo mi ha permesso di non solo resistere di più ai danni perché in questo modo aumentavamo brevemente tutte le resistenze del balsamo ma poi potenziamo gli attacchi consecutivi cosa che abbiamo ulteriormente fatto ovviamente anche grazie all'emblema della spada alata marcescente incrementa notamente la potenza dell'attacco dei colpi consecutivi oltre incrementa la destrezza la potenza attacco dei colpi consecutivi questa è la protesi di millicent molto utile per il build di questo genere e poi abbiamo anche il talismano gran scudo del drago per prendere meno danni perché ragazzi i danni fisici facevano davvero molto male oltre quelli sacri quindi ho preferito difendermi in questa maniera la boss fight è stata alquanto movimentata lo starete vedendo in questo momento e probabilmente anzi alla fine del video vedrete tutta la boss fight completa questa è stata una delle più difficili anzi la più difficile in assoluto per quanto mi riguarda perché come vi dicevo nella seconda fase succedono cose che secondo me non dovrebbero succedere non con quella potenza non con quelle con quella predominanza continua di attacchi e che non si può ovviamente quasi mai schivare tutto se non perfettamente è una boss fight che richiede tantissima concentrazione è una boss fight che richiede comunque abbastanza danno perché perché più durerà più sarà complicato poi portarla a termine quello che io consiglio almeno per come mi sono trovato io ed aumentare davvero tanto le difese perché se non vi bisciotterà voi potrete restare in vita e poter continuare la vostra boss fight altrimenti quello che rischierete è semplicemente di morire continuamente e non riuscire neanche a fare i danno perché le finestre per fare i danno davvero saranno pochissime e in quel momento voi dovete scaricare più danno possibile motivo per il quale noi utilizziamo una build sanguinamento ci ha permesso di fare abbastanza danno questo perché perché abbiamo utilizzato anche la carne sacra sanguinaria o sanguinante non ricordo adesso esattamente ma ci permetteva di fare ulteriore danno questa combinazione di cosa quindi la carne il fatto di fare seppuku il fatto di aumentare cioè utilizzare il nostro balsamo e anche piamma donami la forza e ci permetteva subito di fare abbastanza danno nella prima fase quindi arrivavamo automaticamente continuamente sempre nella seconda ieri quando ho riprovato andavamo bene anche senza tutto ciò ma la cosa che mi ha svoltato totalmente il tutto è stata il cambio di build che ho deciso di fare cioè vi faccio vedere io in questo momento sono livello 266 se non erro radano l'ho ucciso al 264 la vitalità era al 60 la mente al 14 la tempra al 50 la forza al 58 destrezza 86 intelligenza 9 fede 15 perché l'abbiamo aumentata per poter utilizzare sfiamma donami la forza e poi ragazzi arcano era al 56 poi ho fatto due livelli perché poi ho ucciso poi anche al quinto tentativo anzi con questa build al quarto tentativo bail quindi non è stato neanche molto difficile bail in realtà forse perché dopo aver fatto lui tutto sembra molto più semplice onestamente quindi cosa succede abbiamo aumentato la forza cosa che prima non avevamo fatto e ci ha scalato molto bene con l'arma che abbiamo in questo momento quindi siamo riusciti ad arrivare ad un ottacco di base di 1225 ora vedete abbiamo come benedizioni dell'albero dell'ombra 19 non ho trovato ancora la ventesima ma non importa a questo punto perché non mi serve onestamente dopo aver battuto lui siccome adesso ci troviamo in ng plus 3 dovremo iniziare ng plus 4 e poi quando lo rinizieremo magari potremo pensare di prendere l'altra l'altra benedizione in modo molto semplice per evitare insomma di fare i giri estremi per andare a cercare capire quale ho missato radhan a livello ng plus in cui ci troviamo in questo momento era davvero difficile aveva 55k di vita e non lasciava scampo io vi posso garantire che questa boss fight avrebbero potuta farla un attimino meglio per evitare tutta questa frustrazione inutile perché non è tanto la difficoltà in quanto bisogna imparare solo le meccaniche ma è l'output di danno incredibilmente esagerato è il fatto che comunque lui attacchi davvero tanto velocemente però in questo modo alla fin fine oggi mi sono messo in testa che avrei voluto batterlo senza neanche preoccuparmi di come sarebbe andato il pomeriggio ho detto io mi ci metto qua adesso finché non lo batto non me ne vado ma in realtà è stato più semplice del previsto perché una volta aver aumentato le benedizioni perché quando avevamo provato l'ultima volta avevamo soltanto 13 benedizioni dell'albero dell'ombra e avevamo una build che tutto sommato andava bene ma non benissimo adesso facendo questi cambi mi sono reso conto che siamo andati davvero molto ma molto bene persino ieri che ho fatto qualche altro tentativo l'avevamo quasi battuto mancava davvero pochissimo quindi sono rimasto molto ma molto soddisfatto fatemi sapere voi adesso se questa build vi piaccia io onestamente la trovo abbastanza utile non è sbroccata perché non vi permette ovviamente di fare i trilioni di danni però vi permette di fare abbastanza danno soprattutto all'inizio quando avete tutto attivo e passate subito alla seconda fase subito per modo di dire comunque dovrete scrivare colpire scrivate colpire e poi la seconda fase vi faccio vedere come l'ho fatta almeno questo è il modo che ho utilizzato io non è il modo corretto adesso vi lascio al video completo dove potrete voi stessi analizzare il fight non è uno tra i migliori che mi sia riuscito ho fatto fight migliori ma non sono riuscito a battere ma in questo fight in realtà nonostante non sia andato super benissimo comunque alla fine si è concluso con una vittoria per noi quindi ragazzoli miei vi saluto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e naturalmente lasciate like iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.